ora è come la pisa dei sorelli per l'urla eh t'ha fissi già passivi ti parecci no? allora non ha mai una bottiglia barbira o te li vedi no? felice! felice! barbira! no! è per mia! sei per mia! oh te ma che è il chicolo mio! ma come io preparo a te? ma si vede che è l'unica niente che fa con l'alcol perché? si chiedi bene il chicolo qui che taglia le fila di su magari è il chicolo! mamma! mamma! prepara un pittini di te! magari alla menta! o meglio a te la menta è quello mio! il mio donato è lei! foto del mio amico Maurizio! ma proprio davvero! esatto!